Una trovata geniale, dettata dall'incoscienza di gioventù, fa la differenza tra Milazio e Latina, destinata a terminare sullo 0-0. Invece Emiliano Tortolano, vent'anni da Ostia, allo scadere del tempo di recupero, si è inventato la traiettoria che ha sorpreso di Dio lontano dai pali. È il gol che lancia Latina verso la prestigiosa sfida alla corazzata Avellino. Allo stadio Grotta Polifemo è stato sostanziale equilibrio sin dall'inizio, con le conclusioni degli annelli finita al lato e quella di Polani, che servito da Cinelli, solletica l'attenzione del portiere ospite. Al decimo la punizione di Saurino chiama all'uscita Martinuzzi al suo esordio tre pali, mentre al tredicesimo viene ribattuto il diagonale di Tortolano scaturito da un pallone messo in mezzo da Caffiero su rimessa laterale. Ma la prima vera grossa occasione dei Nerazzurri è al ventitresimo. Cross di Cinelli, correzione di Berardi per merito, che da favorevole posizione calcia sul fondo. Poi su punizione degli annelli, Martinuzzi al ventinovesimo non vuole correre rischi ed alza in angolo. Il primo tempo si conclude con lo slalom di Tortolano, che entra in area dalla sinistra, si accentra, cerca la porta, ma calcia alto. Dall'altra parte gli annelli, ancora più impreciso. Ripresa aperta dal sinistro di Tortolano fuori misura. Nella parte centrale sale in cattedra l'estremo difensore argentino della Tina, che in ordine di tempo si oppone al destro in corsa di Proietti e poco dopo si inarca all'indietro, sfiorando quel tanto che basta il tiro cross dello stesso numero 17. L'ultimo guizzo del neo entrato fuori bersaglio è anche l'ultimo acuto dei padroni di casa, che al quarantottesimo si inchinano alla perla di Tortolano sommerso dai compagni di squadra. Il Latina comincia a credere in qualcosa di importante. Tre punti, chiaramente in questo partire con il piede giusto in campionato, da molta carica, da molta adrenalina. Però dobbiamo rimanere obiettivi e vedere che era una partita che eravamo riusciti a strappare un buon punto, su un campo molto difficile, con una squadra che faceva un calcio molto agonistico, con palla lunga. Noi siamo stati bravi a calarci in quella realtà, di interpretarla bene. Premiati, diciamo, oltre misura direi con questo bellissimo gol di Tortolano. Però c'è da dire che forse ci siamo ripresi i due punti che avevamo lasciati a Matera. Grazie a tutti.